They call my baby, say I'm on the way now Oh yeah, say I'm on the way See I've been going crazy Thinking about your late night You drop The way my heart reacts Let's be gone in here Baby, I need you too See I've been getting flashbacks Dottoressa Gray? Capo Weber? Sì, un po' di ginnastica Bene! Non posso fare niente per te? Sì, quello stupido consulente Perkins Non vuole autorizzarmi a operare Così mi chiedeva se... No Ma autorizzare... Mi dispiace davvero Ma abbiamo chiamato il migliore E se Andrew Perkins dice che non sei autorizzata Devi parlare con lui anche se I lembrano di measurements Axe An